Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video Io sono Giuseppe e oggi giocheremo con Octobit E' uscita una nuova Offerta che è uscita anche Altra volta Io l'ho comprata Facciamo un po' Vai per il giornale Oh che volevo Fatta Oh l'avete visto? Mi hanno schivato E' uscita Scusate per costruire E' uscita 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 E' uscita